Cripto portfolio, zero sbatti con massima efficienza fiscale. Investire in asset nativi, quali sono le criticità per un investitore neofita? Beh, innanzitutto è risaputo il rischio di perdita delle chiavi private dei vostri wallet che vi impediscono pertanto di ritornare in possesso delle dotazioni, swaparle, venderle, casciarle e così via. E questo è una delle preoccupazioni principali di chi vuole avvicinarsi al mondo cripto. Rischio di wallet hackerati e questo è un tema che vediamo con periodicità ridondante arrivare sulle cronache finanziarie con tantissime casistiche anche di prestigio richiamando l'interlocutore, l'intermediario o il soggetto che produce, ad esempio, i code wallet. Ostilità nel trattamento fiscale è inutile girarci tanto attorno quando gestite le cripto nativamente, quindi acquistate bitcoin sulla blockchain di bitcoin, ethereum sulla blockchain di ethereum e così via con tutte le altre, passando per gli intermediari, avete dei problemi nella gestione fiscale non solo della vostra posizione dal punto di vista delle plusvalenze, ma anche delle minusvalenze. Infatti qui passiamo al quarto punto, la difficoltà oggettiva nello scontare le minusvalenze. Considerate che in Italia abbiamo purtroppo un inferno ancora di interpretazione con asimmetrie informative per quanto riguarda la modalità, la gestione di tutti questi aspetti che qualora voi vi posizionaste sul mercato con un timing d'eccezione molto attraente può generare delle consistenti plusvalenze nel tempo, le quali poi dovranno essere gestite appunto sul versante anche fiscale. Infine, rischio di bancabilità in caso di smobilizzo e questo viene quasi sempre ignorato. Che cosa vuol dire rischio di bancabilità? Facciamo un'ipotesi proprio di scuola. Nei prossimi anni voi andate, qualora si verificherà una bull run di una certa intensità, a smobilizzare le vostre dotazioni native, quindi i vostri token, le vostre crypto asset tradizionalmente native nelle rispettive blockchain. Realizzerete auspicabilmente una plusvalenza molto consistente. A quel punto vorrete ritirare o almeno la maggior parte vorrà ritirare quel controvalore di mercato, trasformarlo in moneta fiat e poi utilizzarlo nella vita reale di tutti i giorni, che non so, poi comparsi in abitazione, cambiare lifestyle, aiutare i figli, lanciare un'attività imprenditoriale, non ci riguarda, vi serviranno ad ogni modo gli euro e i dollari. Ebbene, qualora, e questo è abbastanza probabile che si verificherà al prossimo giro di BOA, avrete in ingresso sul vostro appoggio bancario italiano ma anche europeo in area Eurosepa, l'intermediario bancario si troverà con una transazione finanziaria in ingresso di entità anomala, che rientra nel caso italiano nelle cosiddette EOS, SOS, ossia segnalazioni di operazioni sospette. Ed è più che probabile, pensate infatti, che ne so, un lavoratore dipendente che ha flussi di ingresso in uscita sul proprio appoggio bancario, che potrebbero essere di 2.000-3.000 euro al mese, improvvisamente gli arriva magari dagli Stati Uniti, dalla Lettonia, dalla Svizzera, dal Regno Unito, o da qualsiasi altro paese in cui sono presenti noti intermediari per il mondo cripto, un quantitativo che è sospetto in relazione alle movimentazioni tradizionali, 300-400, in tali casi potrebbero essere anche qualche milione di euro a seconda dell'intensità della prossima bull run. Ebbene potete stare sicuri che la banca in quel caso bloccherà i fondi, non significa che ve li sequestra, li blocca e chiederà notizie, informazioni, certificazioni, accertamenti sulla provenienza di quel denaro, per quale motivo entra un importo di quella portata. Ecco per quale motivo si parla di bancabilità, ossia che potreste trovarvi in forte difficoltà nel poter andare a impiegare, utilizzare quelle a risorse finanziarie. In particolar modo alcuni intermediari, almeno per quello che posso percepire io nel confronto professionale quasi quotidiano, è plausibile che richiederanno delle certificazioni di regolarità fiscale che dovrà produrre ovviamente il contribuente, quindi il correntista, tramite il proprio consulente fiscale, il dottore commercialista che vi assiste e così via. E non è affatto facile richiedere una certificazione di questa portata, perché espone ovviamente poi a responsabilità anche sul fronte penale il soggetto che la emette. E' per questo motivo che bisogna iniziare a concepire l'investimento nel mondo cripto, a mio modo di vedere, per importi molto elevati, ricorrendo agli strumenti finanziari regolamentati. Avete visto la discesa in campo dei big della finanza tradizionale, Fidelity, BlackRock e così via, discorrendo che vogliono tutti iniziare ad emettere ETN, ETP, ETC su un'esposizione in crypto asset. Vediamo per questo motivo un crypto portfolio tutto sommato semplice da realizzare, con 5 posizioni composto da ETN. Ora per chi decide di abbracciare l'altra sponda e quindi abbandonare gli assernativi e andare a quelli con la replica passiva, dovete sapere che questo tipo di esposizione è possibile esclusivamente con gli ETN, che sono Exchange Trade Notes, ossia strumenti finanziari complessi, che vengono emessi a fronte dell'investimento diretto da parte dell'emittente nel sottostante, che ovviamente non devono essere commodity, in questo caso crypto asset. Attenzione, gli ETN al pari di ETC non sono organismi di investimento collettivi del risparmio, ma titoli di debito, Debt Securities, emessi da società a veicolo per controbilanciare l'investimento diretto del sottostante da parte dell'emittente. Quindi, proprio per la loro stessa struttura, oltre al rischio di mercato che avreste con gli asset nativi, gli ETN vi espongono al potenziale rischio di perdita integrale dell'investimento. Ad esempio, nel caso in cui l'emittente dell'ETN non fosse in grado di ripagare il valore dell'ETN. Questo è specificatamente indicato nel KID di ogni strumento. Per quale motivo vi è questo tipo di rischio? Perché per struttura di prodotto l'emittente non detiene, anche per ragioni di rischio, gli asset, i crypto asset, ma li mantiene in custodia segregata presso società di prestigio che si occupano di effettuare ed hanno il know-how per effettuare la custodia contro terzi. Quindi ci sono dei rischi che non sono impliciti, che non sono facilmente comprensibili. Diverso è il caso degli ETF, in cui all'interno degli ETF trovate solitamente i titoli. Un ETF che investe in azioni small cap degli Stati Uniti, dentro all'ETF, qualora sia replica fisica, troverete i titoli. Quindi l'unico rischio di mercato è quello. L'unico rischio che è affrontato è quello di mercato. Una volta compresi i rischi legati alla struttura del prodotto, dall'altra parte della medaglia abbiamo dei benefit, che in questo caso sono rappresentati dall'efficienza fiscale degli ETN. Infatti le plusvalenze ottenute con un ETN, quindi immaginate adesso anziché di comprare un Bitcoin, comprate un Bitcoin attraverso l'esposizione con un ETN e magari con la prossima bull run Bitcoin va a cifre monstre, ebbene l'ETN si apprezzerà di pari passo, tranne la componente legata alla commissione di gestione dello strumento. Ebbene le plusvalenze con questo tipo di strumenti possono compensare con minusvalenze ottenute ad esempio su fondi comuni di investimento o altri ETF o in ogni caso addirittura anche azioni di obbligazioni, in quanto gli ETN rientrano nella categoria dei strumenti finanziari che generano redditi diversi, mentre fondi ed ETF sono strumenti finanziari che generano redditi di capitale. Purtroppo in Italia abbiamo una simmetria fiscale sfavorevole per il contribuente e questo deve essere, a mio modo di vedere, preso in considerazione proprio per creare efficientamento fiscale e non avere tutti i problemi che abbiamo menzionato prima. Nel momento in cui avete un ETN che è uno strumento finanziario regolamentato, qualunque sia l'importo che avrà il controvalore al momento del cash out, voi vi ritroverete l'importo accreditato sul vostro dossier titoli o sul vostro conto corrente, defalcato della tassazione al 26%, se in quel contesto avrete anche delle minusvalenze da scontare, avrete il beneficio che la tassazione sarà colpita al 26%, sarà del 26% ma colpirà la somma algebrica tra plusvalenza ottenuta dall'ETN e minusvalenze precedentemente accantonate ed utilizzabili proprio in questo caso. Vediamo quindi quale potrebbe essere, a mio modo di vedere, in questo momento di mercato, un portafoglio semplice da realizzare per cavalcare svariati temi di mercato ricorrendo agli ETN. Allora, da come potete vedere dalla grafica, abbiamo un quarto del portafoglio con il VanEck Bitcoin, VanEck noto emittente nell'ambito all'insenno dell'Unione Europea, specializzato anch'esso in cryptoasset. Poi abbiamo la componente con Ethereum, ETC, gruppo, physical, ethereum, ETN al 25%, quindi in buona sostanza questi due asset pesano il 50% del portafoglio. La restante parte è suddivisa, come potete vedere, in coinshares, physical, stake, solana al 20%, VanEck, avalanche, ETN al 15% e infine coinshares, physical, stake, algorand, ETN al 15%. Quindi si tratta di inserire delle componenti tematiche che prendono in considerazione lo sviluppo, l'utilizzo delle piattaforme per smart contract, mondo ed evoluzione degli NFT e poi tutte le altre applicazioni per il mondo della finanza decentralizzata. Ebbene, qualcuno potrebbe chiedersi perché solo 5 componenti e non 7, 8, 10? Perché in questo momento di mercato ci sono, sì, numerosi ETN disponibili sulla parte di altri emittenti, ma non hanno massa gestita, ossia gli AUM non arrivano neanche a un milione. In questo caso, ad esempio, Algorand è stato inserito perché ha un AUM di quasi 5 milioni di dollari e sembrerebbe che le masse sono in fase di aumento. Ci sono altri crypto asset che hanno masse molto più elevate, però a mio modo di vedere non esprimono potenziale. Ad esempio, uno degli ETN più a masse di rilievo può essere identificato anche con Binance e Cardano, però io in questo momento di mercato e con le aspettative che ho non consiglio di andare ad inserire né Binance per i rischi che vi sono ancora pendenti sull'azienda e su Cardano, ritenuta da molti ormai. Come una chain con problematiche di sviluppo nel medio termine. Il vantaggio che si hanno con gli ETN e la costruzione di un portafoglio con questi strumenti è che, primo, nessuno te li porta via. Secondo, hai un trattamento fiscale che abbiamo detto è semplice, non rientra in tutte quelle casistiche ancora piuttosto complesse. Terzo, potete andare in compensazione con le minusvalenze. Quarto, zero rischi di bancabilità, perché essendo strumenti finanziari regolamentati, quotati nelle borse europee, nel momento in cui andate a casciare, la disponibilità è soggetta a un'imposta a titolo, a un ritenuto a titolo d'imposta e da quel momento in poi voi potete fare quello che volete del denaro ottenuto. Per definizione, infine, non avete i rischi, i mal di testa tipici. Oddio, mi hackerano il wallet, oddio, ho perso le chiavi e così via. Dormite, come si suol dire, zero a sbatti. Tra l'altro c'è anche un aspetto non indifferente legato al monitoraggio fiscale, nel senso che decadono tutti quegli obblighi da parte del contribuente di andare a riportare queste dotazioni eventuali nel quadro RW, perché non sono previste. Ulteriore elemento di riflessione con l'ultima legge di bilancio in Italia, gli cryptoasset, anche quelli inattivi, sono soggetti imposta di bollo allo 0.2 al pari degli ETN, quindi l'imposta di bollo che investiate in asset nativi o gli strumenti finanziari a replica passiva è paritetico. In questo caso, addirittura, siete facilitati perché non dovete neanche autoliquidare l'imposta, ma viene effettuato tutto dall'intermediario con il quale operare. Vi consiglio di scaricare, per chi volesse approfondire il tutto, il KID, quindi i documenti che consentono di comprendere la struttura del prodotto, i suoi rischi, non solo di mercato, e tutte le possibili varianti di evoluzione che potrebbe avere sfavorevole per il soggetto che va ad investire. I codici ISIN sono riportati in descrizione video. Alcuni ETN non sono soggetti a TER, Total Expense Ratio, come ad esempio nel caso del Physical Ethereum, nel caso del Physical Staked Solana, in quanto beneficiano delle staking rewards che consentono di compensare i costi dello strumento. Il VanEck Bitcoin ETN, anche se è una Debt Security, ha una commissione di gestione inferiore all'1% che lo rende in questo momento tra i prodotti più o meno onerosi e ha una massa gestita che si avvicina quasi ai 200 milioni di dollari. Pertanto un prodotto che il mio modo di vedere è efficiente fiscalmente ed anche ha un'onerosità particolarmente attraente rispetto ad altri prodotti similari presenti sul mercato. Torneremo tra qualche settimana a effettuare un ulteriore approfondimento con un altro portafoglio, sempre ricorrendo a NTN, molto più complesso che va ad escludere in questo caso le due componenti core, ossia Ethereum e Bitcoin, concentrandosi sui temi che potrebbero dare particolare soddisfazione durante la prossima bull run per le caratteristiche distintive che hanno determinati ecosistemi emergenti in questi ultimi mesi.